Anticipazioni Beautiful, trama puntate, venerdì 17 settembre 2021. Bill spalanca la porta di Villa Forrester e trova Brooker Ridge in salotto. Allarmato chiede alla Logan se sta andando tutto bene. L'ostedista fraintende tutto e dice a Brook che non può tornare da lei. Ferita la donna vuole sapere dallo Spencer il perché della sua visita e l'uomo capisce di essere stato manipolato da Quinn e la affronta. Arriva Shauna e la Fuller la invita a tirar fuori le sue armi migliori per allontanare definitivamente Brook da Ridge. Eric è con Katie. La Logan crede che prima o poi sua sorella e l'ostedista ritorneranno a vivere insieme. Forse si chiama destino. Poiché Katie suggerisce al patriarca di darsi un'altra chance con un'altra donna, Quinn non fa per lei. Il Forrester insiste il suo matrimonio è ben saldo. Più tardi l'uomo passa dal figlio e lo trova solo e infuriato a causa dell'editore. Grazie. Grazie.